ciao a tutti e tutte bentornati bentornati nuovo blog e niente di che ieri abbiamo aperto i regali mi hanno regalato dei set praticamente dei set per poter disegnare cioè mi hanno dato un astuccio tutto brillantinato che mi piace da morire poi questo praticamente questo quaderno anzi questo album che mi hanno regalato questi riesci era da un po che li stavo cercando infatti e a parte quello guardate a parte i guanti no che adesso poi ve li faccio vedere tutti mi hanno regalato questo il nuovo pokemon che ve lo consiglio sarete la switch io c'ho la switch light che ce l'ho rosa che adesso vi faccio vedere che ho già inserito anche il gioco non vedo l'ora di iniziarlo e adesso a parte questi guanti qua lilla ce l'ho anche di altri tre colori ce l'ho azzurro grigio lilla e rosa in più mi hanno anche regalato delle calze ma non dico belle ma stratosferiche almeno secondo me è poi allora sono delle calze di natale dove qua c'ho babbo natale qui mi sa che è di nuovo babbo natale però in un'altra forma e questo è il popazzo di neve non vi dico niente mi hanno regalato tutte queste robe che non so neanche dove infilarmi vi ho fatto vedere tutti i regali che mi hanno dato però se devo essere sincera mi piaceranno di più i guanti che mi ha preparato mamma a mano e niente adesso poi andremo dai nonni a mangiare di nuovo allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se volete unirvi all'asa family e noi ci vediamo domani con un nuovissimo vlog ciao